Di Maria, va da Milik che si è un po' defilato, aspetta a quadrado, Milik poi calcia! Pallone alto sopra la traversa. Vede il movimento a tagliare di Chiesa, il pallone è fantastico, la mette giù Chiesa. Chiesa! Adan gli ha detto di no, ma che palla di Di Maria, che controllo di Federico! E poi attentissimo, l'estremo difensore portoghese. E' uno scambio tra i due con Gonsalves che va al traversone in mezzo, il pallone rimane ancora lì, Coates! La risposta di Chiesa, una grande risposta di riflessi! Poi l'imbucata per Esgaio, il pallone diventa buono per Gonsalves, ancora Chiesa, attento sul primo palo, va in corner! Attenzione a Edwards, prova lo spunto, Edwards va sul fondo, il pallone diventa buono per Santos con il sinistro! Salvataggio strepitoso, quasi sulla linea di porta! Poi il traversone, già battuto per Vlaovic! E poi Gatti! Gatti! Federico Gatti! Sblocca una partita difficilissima! 1-0 al 73esimo! Il primo gol in Europa di Federico Gatti! E di una pesantezza, Sesqui pedale! La stappiamo! Con questo gol! Salvataggio di Coates, poi Diomandè la mette sui piedi di Federico Gatti! Inasio trova un bel corridoio e il pallone in mezzo! Perin! Perin! Due volte! Due volte! Matteo Perin! Straordinario! Finisce qui! Finisce! 1-0 per noi! Il primo atto di questi quarti di finale! Il primo atto di questi quarti di finale!